Da una parte i dati ultimi sulla denatalità, ma anche il futuro appare incerto sulle pensioni. Come guardare al domani economico del nostro Paese? Questo è il problema più difficile da risolvere, credo, che abbiamo di fronte a noi, perché si può cercare di usare i soldi pubblici per sostenere la natalità. Alcuni altri Paesi l'hanno fatto, però servono tanti soldi pubblici e proprio dopo noi non ce li abbiamo. Noi abbiamo un debito pubblico. La Svezia che spende molto per la natalità, spende il doppio di noi per la natalità, spende un sesto di noi per gli interessi sul debito pubblico. Noi purtroppo abbiamo ereditato in realtà dalla Prima Repubblica un debito molto alto. Quindi questo sarà un problema molto difficile da risolvere. Come giudica gli interventi sul cuneo fiscale? Riusciranno ad alleggerire i lavoratori? Credo sia importante ridurre il cuneo fiscale, però prima di tutto deve essere fatto in una misura sufficientemente ampia. E secondo, bisogna trovare i finanziamenti, perché tagliare le tasse in deficit, cioè indebitandosi ancora di più, non mi sembra una grande idea visto il debito che abbiamo.